Oggi in Puglia registrati 1.755 test per l'infezione da Covid-19. 81.497 dall'inizio dell'emergenza. Positivi 10 nuovi casi, di cui 7 in provincia di Bari. Il totale qui sale a 1.427. Un caso e due decessi invece registrati in provincia di Brindisi. Il totale sale a 606. Un caso e un decesso anche in provincia di Foggia, dove il totale dei contagi sale a 1.117. Un nuovo caso anche in provincia di Taranto, totale 277. Nessun contagio ma due decessi nella BAT. Restano invariati invece i dati nella provincia di Lecce, dove il totale dei contagi è fermo a 505. Restano 28 i casi attribuiti a residenti fuori regione. 1. Quello per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il totale dei casi positivi covid in Puglia è dunque di 4.337. 1.460 pazienti guariti, 456 deceduti, 2.421 casi attualmente positivi.